benvenuti a tutti in questo nuovo video oggi mappa della giungla con un nostro iscritto se volete partecipare con noi basta che scrivete il vostro id nei commenti e vi faccio salutare da pode, pyrex e marco ciao ciao e spero che vi piaccia il video vi invitiamo ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanellina per rimanere aggiornati triple f crew vi augura una buona visione ma perché mi ha tippato indietro? non sei l'unico pode sono tutti da te ma cosa sono tutti da te? 2 da pyrex e 4 da suono no c'è un botto di gente ma porco vedi che sei un gufo di merda no no non ho un'arma manco io sono qua e non ho un'arma basta no dai ho io l'arma vi salvo io tutti sono in due di davanti arrivo ho una granata ehm arrivo da voi ehm guarda lì la tutti e quattro in fila lasciateli ammazzare vicenda bono bono pode ti apro la porta entrate qua perchè in teoria no è vivo ma dai arrivo pode arrivo arrivo pode finchè restano giù non è un problema il problema è se salgono no no torri indietro amico 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 torri indietro no torri indietro scappa via pode via pode scappate 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 buona sono morti sono morti sono morti ho ucciso uno io ne ho ucciso uno sotto la ehm la perfetto perfetto grande grandi è qua dentro? è qua dentro? nooo tu muori figlio di puttana nooo per un secondo nooo passa ancora è entrato dov'è dov'è? da sotto di te cazzo ma ma è qua fuori? a cazzo eh? grande vai ucciso ucciso ce n'è ce n'è ancora uno eh? ci curiamo uccidiamo gli altri e ricominciamo si si è qua dentro eh? ucciso da che pollo questo è ciò che facciamo quando uno dei nostri compari muore mettiamo il confettino mettiamo sopra esplodiamo alla wakbar bene 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 meno 4 alessi facciamo los leones va tranquilla si ma è la prima atterrono tutti eh? adesso fa la psicologia dei lanci adesso mi raccomando condividi il nostro canale con i tuoi amici grazie grazie che bisogna che ringraziare e beh certo maleducato scostumato si può essere un ma... ha atterrato un tizio in col capannone e io vado verso di là un po perché tanto qua non ci vai in la natura un po dentro sotto da te un attimo cercare almeno una pistola sì sì possibile che sono atterrato e mi sono danneggiato basta perfetto aperta una sfascaricolpio e vado ucciderlo era sul tetto la causa è tolta era sul tetto del capannone non so neanche io come ho fatto a ammazzarlo senza mirino e niente però vabbè allora però io ho visto che mercoledì sera inizia a piovere per un bel po' di giorni dopo vediamo se smette andiamo vieni qui bot di merda vieni qui bot Fede was not was not down by language box grazie mi chumì pinda pinda risparando bot ma allora ma c'è qualche problema no oh si va bene si ma continuano a sparare ma io non trovo nessuno ok questa è la nostra botte ok questo è la nostra botte visto arrivo si sta correndo dietro io ho fatto zero kill zero kill per adesso la madonna 15 mettermi ciao piccolo bono lasciamola mettere meno uno di voi cavolo nessun mio e non ancora sparta una persona cava qui c'è un bot c'è un bot si vedi che non è di sopra o meno uno teoricamente se non mi ricordo male si non c'è fede allora mi sarà sbagliato con la mappa un salto che ho fatto da dove l'ho fatto l'ho fatto da dove sei tempo fino a dove c'è la muto ma non mi sono mica staccato dal coso dalla muto mi ha proprio sparato figa inguidabile guardalo Gesù Cristo oh andiamo se troviamo un'altra macchina qua ocio vabbè lasciamo perdere che meglio se ne lasciamo perdere va che le mei io adesso passo dritto in parte al troppo così ammazzano cava no 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 e poi io scappo no sei cattivo che noia questa partita vabbè siamo dentro madonna che cazzo via 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 siamo ancora dentro è inutile dove vorresti andare vuoi stare qua a far cazzeggiare hai detto prima andiamo a caccia è noiosa adesso si ma io pensavo a peccato ci fosse qualcuno appunto per quello allora la stessa la stessa inutile frase che hai detto prima a sto punto ma calma calma che non io santo calma sono più freddo stai lì stai lì stai lì ah è qua altro dove? cazzo davanti a noi cito eh puoi andare alla tua sinistra un pochettino sinistra vai 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 stop buono il giro è il giro sono molto molto motor q dietro quà cantur dialog vabbè poi non ho perso bene quello Fa è finita da lì no pochettino No per un pello più in testa la pesa Mi stavo lanciando una granata e difatti Voglio andare vedere voglio andare vedere quello che ho ucciso cosa aveva curiosità C'è gente qua sopra ho visto appunto Aveva l'em24 questo Dov'è, dov'è, dov'è Buona Dov'è che è? Di preciso, preciso Ah più là No Schifosi Occio che siete in campo aperto eh Ma scusa dovrebbe esserci anche questo qua dietro no? Eh appunto è quello il tizio, il tizio è tipo qua da qualche parte Non sei il typhine In quelle zone lì Eh già Ti spara eh? Eh figa ma non senti Non lo vedi, eh Adesso sono anche a 280 metri da te eh Ma cosa cazzo fai lì? Un guarda safe Le camole, le camole Se guarda le safe non sono più le camole pure Eh ok Ma vaffanculo Uno è andato Manca l'altro pute Io sono giù eh Arrivo, arrivo Ma da quando è che hai la pua o metti pute? L'ho trovato in un cadavere a caso Ah Hai sbloccato te tutto giusto? Sì Ok Preso Un colpo è morto Fede, eh Fede pute Headshot, bitch Che brutta pari Mamma mia Me l'ho sparato a manco un colpo?